Musica Operazione della Digos per i disordini al cantiere TAV del luglio scorso 14 misure cautelari per diversi esponenti del centro a scatassuna di Torino Telegiornale RAI del Piemonte, prima edizione Buongiorno Operazione di procura e Digos questa mattina contro alcuni leader del movimento No TAV 14 misure cautelari hanno colpito diversi esponenti del centro sociale a scatassuna di Torino In carcere anche due leader Le accuse riguardano i disordini avvenuti al cantiere della TAV durante una manifestazione lo scorso 27 luglio Alviselosi Due arresti e 12 misure cautelari per gli scontri dello scorso 27 luglio al cantiere TAV di Venaus in Val di Susa A finire in carcere Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli I due esponenti del centro sociale torinese a scatassuna sarebbero responsabili Secondo la Digos e la procura di Torino di aver pianificato e guidato le azioni di qualche centinaio di manifestanti Durante il festival dell'alta felicità Dai 3000 in marcia sul sentiero Gallo Romano verso Chiomonte interdetto dalla prefettura Si erano staccati alcuni gruppi a volto coperto che avevano sfondato la rete di protezione al cantiere TAV Poi avevano scagliato pietre e una cinquantina di bombe carta contro le forze dell'ordine È in corso ancora l'analisi dei diversi immagini e video che sono stati acquisiti in quella giornata E quindi ci saranno anche dei risvolti investigativi quanto prima Altre 12 le misure cautelari tra obblighi di firma e divieti di dimora in Val di Susa 7 i militanti di a scatassuna coinvolti 2 invece quelli appartenenti al movimento NOTAV Anche 3 esponenti antagonisti di altre regioni sono stati identificati e sottoposti a divieto di dimora In provincia di Torino, 1 di Modena, 1 di Parma e 1 di Vicenza 16 in totale le perquisizioni Sugli arresti degli esponenti NOTAV è intervenuto da Torino anche il capo della polizia Franco Gabrielli Sentiamo che cosa ha detto Abbiamo il diritto dovere di garantire le pacifiche manifestazioni di dissenso Quando queste pacifiche dimostrazioni di dissenso si traducono in atti di violenza Devono essere puntualmente perseguite Ad dove il prefetto di Torino dovesse valutare strada facendo che c'è bisogno di più forze Noi ovviamente daremo il supporto che abbiamo dato in questi anni Grazie a tutti Grazie a tutti